Ho scritto la mia di storia e un domani potrò raccontare ai miei figli, raccontare a qualcuno quello che io ho fatto, anche se non sarà qualcosa di eccezionale per gli altri, ma per me va oltre le mie aspettative, quindi sono contentissimo di tutto. 13 ore filate di pedalate, dalle 5 del mattino alle 18.20, 176 chilometri e più di 9.000 metri di dislivello positivo su e giù da un tracciato di circa 10 chilometri tra Caspoggio e il Dosso del Sole, nei pressi di Piazza Cavalli, con un dislivello in salita di 520 metri e una pendenza che arriva a punte del 26%. Sfida, anzi sfida verticale vinta per Stefano Lanzi del basonato team Lissone Mountain Bike, che era indiscusso domenica al centro Zenit di Caspoggio, dove un folto pubblico ha seguito ora dopo ora la sua impresa. Salire e scendere lo stesso percorso con la sua mountain bike fino a raggiungere, e nel caso di Lanzi a superare con i suoi 9.051 metri, gli 8.848 metri di dislivello positivo che corrispondono anche all'altezza dell'Everest, la montagna più alta della Terra, tanto che la disciplina si chiama proprio così Everesting. Un'impresa straordinaria che ha visto Stefano non soltanto trionfare davanti alla sua famiglia e a un voltissimo pubblico, ma anche entrare di diritto nella Hall of Fame, che ha sede a Melbourne in Australia, degli Hells 500, ovvero i finisher di questa disciplina per pochissimi e tenaci fuori classe, che è appunto l'Everesting. Molto emozionante la giornata, che per Caspoggio era anche festa di San Rocco, patrono del paese. Tanti residenti, tantissimi turisti e la torcida dei ragazzi del Berlina Bike che hanno dato la carica a Lanzi, che a vincere è sì abituato, ma per il quale quella di domenica è stata comunque una prima volta, per lui e per la Val Malenco, tanto che a sfida ultimata e vinta, dediche e ringraziamenti sono stati tantissimi e molto, molto sentiti. Un grazie in particolare va proprio alla mia famiglia che mi supporta e mi sostiene in tutto. Se non fosse per loro non riuscirei a fare queste cose, comunque tra lavoro e tutto quello che ne concerne la bicicletta, senza sacrificio non si ottiene niente. Una dedica speciale va ai miei genitori che sono su là, che sono mancati da un pezzo. E più alla mia famiglia che pian pianino ce la stiamo ricostruendo, nonostante alti e bassi che abbiamo. Tutto qua. Grandissimo entusiasmo e l'orgoglio di aver ospitato una simile sfida proprio a Caspoggio, anche da parte del primo cittadino presente al centro Zenit. Una giornata di sport notevole oggi, con questo record che ha fatto il nostro Stefano. Un motivo in più per il paese di Caspoggio, ma anche per la Val Malenco intera. Motivo di sport, di organizzazione, di tutto. Voglio ringraziare la Bike Bernina, perché veramente è sempre al primo posto su queste cose e soprattutto con un'organizzazione eccezionale e un territorio che si è prestato. Entusiasmo condiviso anche dal presidente di Bike Bernina, Tim, che ha supportato Stefano con un calore impareggiabile. Aspettavamo da un sacco questo evento, siamo super contenti, abbiamo avuto un sacco dei nostri ragazzi che hanno aiutato Stefano psicologicamente a salire, l'hanno portato sempre da in cima, in fondo, da in fondo in cima, siamo super contenti e lui è stato un grande. Per Stefano la soddisfazione di aver centrato l'obiettivo è nessun cedimento, né prima né durante l'impresa. Ho dubitato stamattina che non ho sentito la sveglia e alle 4.35 mi sono alzato e cambiato in tempo zero, però ho preso dei crampi, sulla quindicesima salita ho avuto dei crampi che però mi hanno fatto dei messaggi e Cino mi ha riportato subito in auge. E come ringraziamento alla moglie Daniela, che sopporta il suo essere padre e marito part time, considerato il tempo passato da Stefano al lavoro o a allenarsi, l'onore del taglio del traguardo sulla sella della sua bicicletta. Bellissima, unica, fantastico!